Ciao ragazzi e bentrovati. Io sono Francesco Placci e, come tutti fine settimana, anche oggi siamo qui assieme per fare il punto sull'andamento dei mercati. Prima di incominciare, mi raccomando però, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video e, perché no, lasciate anche un bel like a questo video. Ciao, per un'area Unger, per molti anni ho sbattuto la testa sui mercati finché non ho sviluppato il mio metodo di trading automatico. Lo stesso mi ha permesso di diventare l'unico quattro volte campione del mondo di trading. Iscriviti al nostro canale per spunti e consigli gratuiti. Settimana positiva per le principali borse americane ed europee, anche a seguito del rilascio dei dati sull'inflazione che hanno rispettato le attese sui posti di lavoro, che lasciano pensare ad un possibile rallentamento del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Quindi, più tra il Nasdaq, più le 47 in questo momento, il Mini SP500, più 2,90 l'Eurostox, più 3% il DAX. Quindi una settimana di ripresa e questa ripresa non si è limitata al mercato azionario, ma l'abbiamo vista anche sul mercato dei bond. Sappiamo anche quanto questo mercato sia condizionato dalle decisioni delle banche centrali, quindi rialzo anche per il trentennale americano, più 1%, il decennale invece più 0,82 e anche il bond più 0,85. Passando alle materie prime energetiche vediamo un bel rialzo della benzina, più 10,5% quasi in questo momento e degli altri derivati del petrolio, quindi heating oil e petrolio stesso, più 6,84. Male invece il natural gas che scende anche questa settimana e già da diversi mesi che lo vediamo in forte trend discendente, il che di per sé non è un male soprattutto per la situazione che stiamo vivendo in Europa. Il settore dei metalli non mostra particolari spunti. Vediamo giusto un rame che guadagna il 6,5%, un bel rialzo nel corso degli ultimi giorni, meno 3% per il platino. Per quanto riguarda le carni non c'è molto da segnalare, un meno 2,46 per il linux in questo momento, è un paio di settimane che è in trend ribassista e poco altro. Soft commodity, anche qui non ci sono particolari spunti, vediamo rendimenti contrastati, uno zucchero che guadagna il 2,79% mentre abbiamo il caffè che continua a scendere, anche questo sottostante è in trend discendente da diversi mesi. Oltre a questo, su questo settore non mi soffermerei su altro. Per quanto riguarda le granaglie, vediamo un corn che guadagna il 2,94% e poco altro, mentre invece è interessante andare ad esaminare il settore delle valute e criptovalute, perché vediamo dei forti rialzi contro il dollaro, soprattutto dello Yen. Un euro dollaro che guadagna l'1,38% criptovalute, vediamo finalmente il Bitcoin che si è mosso. Un 12%, un 12,5%, per essere precisi, è un movimento che non vedevamo da diverso tempo. Proprio la scorsa settimana accennavamo al fatto che, diverse settimane, che non si vede un movimento del Bitcoin in doppia cifra. Eccolo arrivato. Il Bitcoin sembra voler tentare una reazione a rialzo, ha superato una prima resistenza, vediamo se sarà in grado di mantenere questi livelli e continuare nella sua corsa. Diamo un'occhiata anche alla volatilità. Vediamo una volatilità tutto sommato contenuta, eccezion fatta per l'Eurostox su un orizzonte temporale di lungo periodo. In particolare il Nasdaq mostra un livello di volatilità storica molto basso rispetto al passato, mentre invece sul breve periodo vediamo fotografie contrastanti. Il DAX con una volatilità molto alta rispetto all'ultimo mese, altri sottostanti come il Mini S&P 500 che mostrano invece una volatilità storica molto bassa. Infine, per quanto riguarda la volatilità implicita, abbiamo una struttura a termine degli indici di volatilità sull'S&P 500 che è in pieno contango, quindi è la fotografia di un mercato privo di alcun tipo di turbativa. Soprattutto vediamo dei livelli di volatilità bassi come non mai, almeno con riferimento ai valori del 2022. Quindi al momento nessun tipo di preoccupazione tra gli operatori per l'immediato andamento dei corsi azionari. Passiamo ora al calendario dei rollover in previsione per la prossima settimana. Si parte il 17 gennaio con il rollover sul Crude Oil Future. A seguire in data 20, Eating Oil e Gasoline. Bene ragazzi, prima di salutarvi voglio lasciarvi con un suggerimento. Se tra voi c'è qualcuno che è interessato al trading sistematico, il mio consiglio è quello di dare un'occhiata al link in descrizione, attraverso cui potrete visionare una presentazione gratuita di Andrea Unger, l'unico quattro volte campione del mondo di trading con denaro reale, che vi introdurrà al suo metodo di trading, il metodo Unger appunto. Non solo potrete inoltre ottenere il best seller, il metodo Unger, coprendo solamente le spese di spedizione, oppure prenotare una consulenza strategica gratuita con uno dei nostri tutor. Bene ragazzi, per oggi è veramente tutto. Vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like se il video vi è piaciuto e vi do appuntamento alla prossima settimana.